Oggi a Padova in occasione della manifestazione regionale organizzata dal PD si è capito che il sociale è sicuramente uno dei nodi cruciali del bilancio 2014. Noi non ci siamo dimenticati del grido di dolore che è salito forte alla manifestazione del 13 dicembre 2013 da parte di tutte le associazioni di volontariato, la cooperazione sociale, il privato sociale che chiedeva più sociale, chiedeva più risorse per sostenere questo importante settore della vita sociale del Veneto e quindi abbiamo voluto presentare le proposte del PD e per quanto riguarda il bilancio 2014 che sappiamo è tagliato fortemente dalla giunta Zaia e dall'assessore Senagiotto e soprattutto pensiamo che sia una strategia nuova in questo comparto. In questi ultimi anni sostanzialmente Zaia ha destrutturato il sociale, si pensa solamente a un'idea di sanità, di ruolo degli ospedali, mentre noi pensiamo che l'integrazione sociosanitaria sia la parte eccellente di quello che è stato il progetto di questi anni nella nostra regione. Pensiamo che oggi sia giunto il momento di cambiare rotta, di impegnare in termini diversi il bilancio, di cambiare soprattutto le politiche di questa regione. A Zaia basta frasi ad effetto, venga in consiglio regionale, e si assuma la responsabilità di dire che bisogna avere un'idea diversa di regione.